Allarme e inquinamento in mare a largo della Corsica a causa della collisione tra due navi avvenuta a circa 14 miglia da capo corso. Dalle informazioni diramate dagli equipaggi l'incidente ha provocato la fuoriuscita di centinaia di metri cubi di fuel oil, olio carburante, che hanno prodotto una chiazza che si è estesa in mare per circa 20 chilometri. Immediato è scattato l'allarme e inquinamento, con le autorità francesi che hanno preso il coordinamento degli interventi e hanno coinvolto anche l'Italia. Nello specchio di mare si sono recate diverse unità dei due paesi, tra cui mezzi specializzati nelle operazioni di contenimento delle sostanze inquinanti e nella bonifica delle acque. Al momento si evidenzia una sostanziale stazionarietà del carburante presente in mare rispetto al punto di rilascio. Lo sottolinea l'assessore all'ambiente della regione Liguria, Giacomo Giampedrone, che, a seguito della collisione avvenuta a nord di capo corso fra la porta container CLS Virginia e il traghetto Roro Ulisse della CTN, si è attivato attraverso l'Agenzia regionale di protezione ambientale per fornire una specifica modellistica che simula il comportamento della macchia inquinante in mare. L'obiettivo è recuperare la fuoriuscita stimata di 600 metri cubi di gasolio. La collisione La collisione, secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Genova, è avvenuta tra la motonave tunisina Ulisse, che trasporta camion e auto, e la motonave porta container CLS Virginia, battente bandiera cipriota. Ed è proprio da quest'ultima nave che si è sversato in mare il carburante. Dai primi accertamenti sulla dinamica sembra che la CLS Virginia fosse ferma alla ancora al momento della collisione. La Ulisse, per motivi che devono essere chiariti, non ha visto il cargo e lo ha colpito su una fiancata. La centrale operativa della Guardia Costiera italiana, su direttiva del Ministro dell'Ambiente italiano, ha disposto l'invio nella zona di diverse unità navali e anche di un velivolo A342 per l'attività di monitoraggio. Tra i mezzi di soccorso andati sul luogo dell'incidente ci sono anche tre unità navali d'altura della società Castaglia ribiti al contenimento dello sversamento, la Nostaurus partita da Livorno, la Bonassola da Genova e la Coral da Olbia. La Capitaneria di Porto di Livorno ha confermato che l'intervento riguarda lo sversamento di carburante e ha annunciato che nella zona della collisione si sono dirette anche tre motovedette d'altura della Guardia Costiera, di cui una da Livorno, nave in Gianni CP409, che fa base nel porto toscano. Le operazioni, da quanto si apprende, riguardano la posa di panne di contenimento per limitare lo spostamento degli idrocarburi e la bonifica delle acque.